Ciao, mio nome è Diana Larrota, sono colombiana, vivo da cinque anni a Milano. Ho studiato il Master in Accessory Design, dopo mi sono specializzata in Arsutoria, ho fatto il corso di modelleria e prototipia delle borse. Subito dopo abbiamo fatto Milano Moda Graduate, che è stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo creato una collezione di borse, anche in collaborazione con il team di SCART. In questo momento lavoro da Versace, ho fatto Versace Collection, Versace Jeans e adesso faccio parte del design team di Versace Children's Wear. Facciamo borse, scarpe, cinture. È stato molto importante fare Arsutoria, imparare come si fanno le borse, si fanno le scarpe. Mi piace il lavoro che faccio e imparo ogni giorno, che è l'importante e nel futuro mi vedo facendo la mia azienda di accessori con il mio nome, quindi sono nel processo di imparare anche a fare il business.